bene così allarghiamo per Sergio attenzione alla salita e alla discesa allora visto che siete in parecchi riusciamo anche a fare delle coppie così facciamo un bel tunnel dalla salita alla discesa dalla salita attenzione alla salita attenzione alla salita attenzione alla salita allora in salita poi riportiamo il cerchio e tra un po' cambiamo ritmo se ne andiamo un po' veloci perché attenzione alla salita attenzione alla salita